Ciao a tutti, volevo segnalarvi una manifestazione che si chiama Faber per l'autismo, che ci sarà il 20 maggio alle ore 16 a Milano, alla Villa Scheibler. Io non ci sarò, ma sono certo che sarà una manifestazione interessante e istruttiva. Cari amici della mente, ho il piacere di presentarvi il nostro nuovo evento di sensibilizzazione ai temi della salute e del benessere psicologico. Questa volta parleremo dell'autismo e come sempre cercheremo di sostenere, di dare dell'informazione utile a sostenere ditori, educatori, insegnanti e comunque tutte le persone che sono in relazione con questi meravigliosi bambini. Partiremo da Roberta Puzzi, una mamma, il suo bambino autistico, il suo libro e la sua passione per Fabrizio Di Andrè. Sì, perché anche questa volta saranno le canzoni di Fabrizio Di Andrè che ci accompagneranno nell'approfondimento di questo tema. L'evento è patrocinato dall'associazione Amici della Mente, dall'azienda sociosanitaria Fatevene Fratelli Sacco di Milano, dalla fondazione Fabrizio Di Andrè Onlus e dal municipio 8 del comune di Milano. Quindi io vi suggerirei in qualche modo di accettare questo invito mio personale e anche dell'amico Eio delle Storie Tese che come forse saprete è generosamente impegnato nel sostenere questo tipo di iniziative. Grazie! Grazie!